Ragazzi, Chris mi ha narrato su Mortal Kombat, mi ha dato la falsa speranza di vincere due volte, ma me l'ha sempre sottratta. Una volta? No, due, anche la prima aveva avuto una falsa speranza. Io ho vinto solo una. Quindi siamo qui su Call of Duty. Prima lui non aveva voglia di inerzarsi mentre aveva posto i cd e io non sapevo dove toccare per mettere fuori i cd dalla play. Quindi lui mi ha dovuto guidarmi dappertutto. Ho dovuto fargli un tutorial. Sì, no, metti titolare, vai su, vai su, vai su, sinistra. Non li, non li lo spegni. Non toccare lì. Ah, sì, c'è il casino che sentite la play, che gira comunque aromato. Ma è anche come uno shuttle. Tra un po' per me prende il volo. Tra un po'. Ah, forse prenderò un piccino, lo so, va bene. Più amati, se verrà con il mosso. La differenza tua. Oh! Ti ammazzo così. Ancora. E ancora. E ancora. Io risetto. Fa ancora. Dai, scegli un'arma decente. Ah, me l'hai copiata, figlio dello schifo. Amazzo, 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 amazzo un po'. Bastardo. Amazzo un po' il volume, dai. Ma dov'è che mi vede quello... Cosa? Alza un po' il volume. Alza un po' il volume. No, no, mi ha cecchionato, figlio dello schifo. Disonore. Ma io fa schifo, è la semi-automatica, su. Madonna cara, prendimi il mitragliatore. Il mitragliatore di fiero. Dominate ora che faccio la roba migliore è chi può fare sopra più di schifo. Scamperare. Ma stracca verso la mano, ragazzi. Come non è morto? Gli ho tirato un cartonaccio. Di quelli forti. Ah, vaffanculo. Oh, ti ho visto morire in diretta. Ora vengo a prendere il tuo culo. Stai, vi... Non riesco a ucciderlo, cazzo. Come si gioca? Oh no, oh no, un bo. Mi sono qualizzati contro di me i bastardi. Oh, non riesco più a giocare qua. Abbiamo perso la mano, ragazzi. No, davvero. Abbiamo una strappa. Ah, muori. Cioè dire che abbiamo perso la mano è dir poco. Mi trae la torre e mi trova ancora. Ma tu sei lì da qualche parte? Le zari. Cazzo. Allora, andiamo a lasciare. No, giù non sei. No, vaffanculo. Stiamo facendo schifo tutti e due. No, dai. Ci stiamo facendo battere da dei bot. Vabbè, i bot sono andato a parte. Che cazzo! Che cazzo! Che cazzo! Che cazzo! To! Magnetile Granata. Oddio, è vero? Io qui c'ho la C4, ma... Anch'io. Oh, che... Perché avessiato l'unico pezzo. Che cazzo di schifo? Sono stra-cazzotti. Pezzo di schifo. Possiamo noi che facciamo schifo. Sono i bot che ci sono diventati cazzotti. Tutte e due. Facciamoci schifo che cazzotti. Eppure ho messo esperto, eh. Ora vengo a prendere... Non fanno anche così. Vengo a prendere il tuo grassoccio culo ora. Ahahahah. Sì, con la minigang ce la fanno tutti. Eh, ci mette tempo a caricarci la minigang. Sì, vabbè. Eh, vabbè. Aiuto. No. Io. Oh, la madafucca, no, mi ha ucciso. Ti stavo sparando continuamente, tu non puoi spargerti, sai? Eh, lo so, cosa vuoi farlo finire. Per amore di Dio, è stata un'azione tattica, come tipo... come sparassi nelle girocchia. Esatto. Dobbiamo inventare una strategia utile, comandante. Sparatevi nelle girocchia. Figgiate una merda. Invalidateci, così il nemico avrà pietà e non ci ucciderà. Ho lanciato a granate. No, no. Dove sei che venga a prendere? Odio il tuo culo. Oh my god. 360. Figlio del... Guarda che mi sa che... Eh, ma ho soldato morto. Aha, su, ino. Uscite, non vi uccido, vi te lo uccido male. Eh, non ti parlo del male. Ti ucciderò. Cosa? Su, io. Oh mio Dio, c'è un bot che non mi ha ucciso. Sì, ma che cazzo però, vaffanculo anche te. Non ho 60 occhi. Non sono un ragno che vede tutto. Dovresti averne invece. Sì, vabbè. E guardalo che camper è là. Ricognati. Questa qui è Call of Duty. E io posso scrincere. No, la mia C4 mi ha tradito. Troia. Merda. Chi camper merita sta fine? Penso di essere io in prima, il primo ragazzo. Aiuto. Bene. Bene. Ok, ho la me... Archigan pronta. Ho la metatone. No. No. Voglio avere il tuo culo dopo. Col cazzo che esco. Perché non passa nemmeno? Vengo a prendere dietro ora. Non ho ucciso nessuno con la minigun. Pensate voi che roba. Pensate che schifo che fa Mr. L. Che sta solo vincendo. Io salgo dove... Ma tu camperrai. Spara loca. Oh mio Dio. Questo qui è il potere dei screenshot. È bello che non so che cazzo vuol dire che ho screenshot. Eh, scrigo. Guardi lo schema dell'altro. No. Oh, ma che boiata che ho fatto. Tipo... Mi stai... Cos'è cazzo da quella roba dì? Dentro! Eh, pensavo di scapparmi eh. Cazzolo ho messo male! Vieni qua, troia! Dove cazzo sei? Ma dove cazzo sei? Vieni qua! Dove... Nooo! Eh, ti ho preso, vaffanculo! Dritto in faccia, troia! Ma bot deficienti, inoltre a cagare. Dritto in faccia. Tu hai mai usato quella... Quella... Sparamine. Sì. Davvero, quando? Quale sparamine? Ah, danza il granatello. No, ma dai! Guarda come mi hanno visto! Dimmi te se tu mi potevi vedere da lì, guarda! Ero io, sai! Da che nigg! Oh, che bastardo! Il tuo culo lo appartiene a me! Screen cheating! No! Tu lo fai sempre! Dai, dai, perché mi ha fatto questa cazzetta! Tu lo fai sempre e ora vendetta! Figlio del merda! Vengo a prendere il tuo culo! Vieni qua, cazzo! Vieni qui, madonna cara! Maledizione! Cazzo, ho sbagliato! Non so neanche se stavo seguendo il tel di delvero. Non ero io. Avrei sentito. Lezzino. Morto uno. Cavolo, ora però... Facci una boiata, aspettate un attimo. Quale sono le opzioni? Quindi, ripeto un attimo, come sono i comandi? Guardi, guardami, guardami. Ma che cazzo! Ok, forse dove se dovrebbe andare meglio. Sei tu quel meglio. No, 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 io ti giuro, eh, ti giuro. Ho preso... No! No! Che culo! Ti stavo, stavo... Ma affanculo, vieni qua! Bene. Stai già meglio così. Dopo io lo seguivo, non so aspettavo niente. Un attimo, quindi, sensibilità... 5, 6, 6, tutto quanto. Oh, sono io ora, ragazzi. Forse è perché io non giocavo male, perché non mi ero mai regolato bene il movimento. Dammi uno spazio di stretto, ora. Mori tu. Non so dove andare. Eeeh, fanculo! Aspetta, già ci sopprima. Mori. Cazzo, 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 cazzo. Sei tu, sei tu, sei tu! Vieni qua, vieni qua! Voglio il tuo culo! Voglio quel culo! Ooooooooh! Nica, 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 nica! Non mi senta da te! Si! No! E c'quanto il coglione! No! Cosa! Ma cosa che gli ha tirato un pugno in faccia? Oc, dove stai direi così ci si mette tanto? Quanto è al massimo di punti? Non lo so. Alvece è il limite di tempo, eh. Ah, ok. C'è, se no, se no, se no. Eh, se no. Bene, muori. Intanto ne ho ucciso uno, bene. Muori, suino! Ma che cade? Maronna, cara. Che è successo? Pensa aver vinto. Ah, era al 30. E il Mr. L vince! Eh, su un secondo! Con nove punti distante! E su un secondo! E anche il botto è secondo! No, è terzo, coglione! È terzo! Guarda qua, guarda qua, la mia mina. Ma che 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 ha fatto l'ultima key, scusa? Io. Il C4 o non tu? Tu non hai fatto l'ultima key. La vittoria di Mr. L. Che ha, di nuovo, dimostrato la sua superiorità nei giochi. Nei giochi fieri, non nei giochi di merda. La differenza è che qua vinco per poco, qua perdo per poco. In Mortal Kombat perdi miseramente te. Guarda, senti, facciamo così. Mi dai una scheda, una verifica, con tutte, guarda, tu mi dai un foglio, mi stai un foglio, dove ci sono tutte le mosse dei personaggi. Ok. Dopo una settimana torno e tu mi fai fare una verifica. Bene. E tu mi dai un foglio, lo devo compilare, le mosse delle cose. Come una verifica? Ma perché cazzo? Mortal Kombat è questo. È una verifica, devi sapere tutto. Ma va. Tutto. Come qua non devi saper comprare? Non devi saper screggitare. Guarda lì, è l'istinto naturale. Non devi saper screggitare. Come fai sempre. L'hai fatto anche tu con la mina. No, con la mina no, cazzo dici. Ok ragazzi, interrompiamo qui, ci vediamo al prossimo video.